Non ce l'ho fatto più Obrillo per la testa, obrillo per la testa Da anni stiamo seguendo le vicende della Croce Rossa italiana e quindi del maresciallo Vincenzo Lozzito l'ormai noto maresciallo che ha denunciato i leciti amministrativi commessi dalla signora Maria Teresa Letta, sorella del più famoso Gianni Nel post, per chi non conoscesse ancora la vicenda di Vincenzo abbiamo linkato la sua storia Oggi siamo di nuovo qua per raccontare l'ultimo accadimento a carico del maresciallo accadimento che ci ha lasciati a dir poco sconcertati Come potete vedere dai documenti ufficiali allegati al post la Procura della Repubblica di Roma ha richiesto al Presidente della Camera dei Deputati e al Ministro della Giustizia l'autorizzazione a procedere nei confronti di Vincenzo Lozzito per il reato di cui è l'articolo 290 del Codice Penale E che cosa prevede l'articolo 290 del Codice Penale? Vi dipendio alle istituzioni E che cosa avrà fatto mai Vincenzo? Ha scritto dei commenti contro i nostri politici sulla sua pagina di Facebook Ma sbaglio o su internet ce ne sono a milioni di commenti di cittadini contro i nostri politici? E che commenti! Come mai tutta questa attenzione verso la bacheca Facebook di Vincenzo Lozzito? Potrebbe esserci un nesso tra le denunce fatte da Vincenzo e questa particolare attenzione nei suoi confronti? Ma come voterà la Camera su questa storia? Staremo a vedere Non che l'ho fatto più Obrino per la destra Obrino per la destra